Con la DAD e lo smart working il pc sta sempre più acceso e la bolletta sale quindi come fare per risparmiare soldi nonostante l'uso intensivo di questi dispositivi tech? Scusate il computer era troppo lento per me Ormai è da un anno a questa parte che tra una lezione a distanza e una call su zoom il computer o meglio in tante famiglie i computer fissi o portatili che siano stanno sempre più accesi facendole evitare cosa? Eh ovviamente la bolletta della luce ma niente paura come dico sempre io il metodo per risparmiare in fin dei conti si trova sempre infatti voglio portarvi dei suggerimenti proprio per risparmiare qualche cosa sulla bolletta elettrica nonostante l'uso intensivo di questi dispositivi Disattivare lo schermo è la prima cosa da fare perché è spesso responsabile di un eccessivo consumo di energia Quando si fa una pausa io consiglio sempre di spegnere lo schermo se stiamo parlando di un computer fisso ci sarà il tastino apposito mentre per un portatile basta direttamente chiuderlo questo perché purtroppo lo schermo è una delle cause principali del consumo di energia in un computer anche lasciare lo screensaver girare per ore se non siamo davanti al computer non la trovo una cosa molto saggia In questo caso disattivare direttamente lo schermo potrà fare risparmiare parecchi soldi in bolletta Disabilitare wifi e connessione a internet è anche un ottimo modo per risparmiare se si fanno lavori offline come ad esempio scrivere un documento Io spesso e volentieri se lavoro al portatile e devo montare un video per cui non mi serve la connessione ad internet e sto lavorando con la batteria lo stacco perché la connessione ad internet in effetti consuma parecchia batteria anche per quanto riguarda ad esempio il bluetooth che non sembra ma se stiamo lavorando su un portatile e poi lo dobbiamo ricaricare più spesso perché lasciamo tutte le connessioni attive purtroppo il consumo di energia aumenterà notevolmente Un altro modo per risparmiare è spegnere sempre il computer ed evitare lo stand by questo l'ho proprio notato sulla mia pelle io avevo l'abitudine di lasciare il computer dello studio il fisso in stand by per la comodità di tornare accenderlo e avere tutto come prima innanzitutto però se salta la corrente io ho perso comunque tutto il lavoro che stavo facendo ma non solo il computer lasciato in stand by è un vero e proprio vampiro di energia anche se sembra che non consumi nulla infatti un computer lasciato sempre in stand by magari tutte le sere quando dobbiamo andare a casa oppure quando non lo stiamo usando può essere responsabile fino al 30% di aumento della bolletta altro consiglio che ho provato sulla mia pelle è quello di staccare sempre la spina se non si usano per tanto tempo i dispositivi elettrici in generale questa è un'operazione che io faccio spesso soprattutto se devo assentarmi per una, due, tre o anche quattro settimane dallo studio perché ovviamente ho paura che se arriva un fulmine possa bruciarmi direttamente tutto il computer con tutto quello che ci ha collegato ma non solo perché la luce led dell'alimentatore, della scheda madre o qualsiasi altra luce led attaccata ovviamente perennemente per tutte quelle settimane senza che ce ne sia effettivamente bisogno consuma molta energia ma non solo se non mi serve la connessione per magari prendere qualche dato sul NAS stacco anche direttamente il modem sia perché le luci del modem comunque assorbono corrente ma è comunque un apparato elettronico che consuma energia inutilmente questi mostri preistorici purtroppo sono ancora in uso ecco il mio consiglio assolutamente cambiateli sembrerà assurdo ma ho incontrato veramente tantissime persone che utilizzano ancora i monitor a tubo catodico proprio nei computer ecco questi andrebbero proprio decisamente smaltiti ma non solo anche per quanto riguarda le tv a tubo catodico anche se si utilizzano sulla seconda casa oppure se si accendono poco perché consumano veramente tantissimo a meno che non abbiate ovviamente una sala giochi un po' retro e vogliate dare quel tocco di antico per giocare magari a the retro game sempre in tema schermo ridurre la luminosità sembra cosa da poco ma è anche molto importante sembrerà cosa da poco ma invece è molto importante perché un computer fisso con una luminosità eccessiva del monitor che è sempre attaccato alla corrente consumerà sicuramente più di quello che dovrebbe ma stessa cosa vale per il computer portatile che ovviamente se lo utilizziamo a batteria la batteria si scaricherà più velocemente mentre se lo utilizziamo attaccato alla corrente consumerà comunque di più in questo caso meglio abbassare un po' la luminosità e integrare con una lampadina magari di casa che dovrebbe comunque essere accesa magari a led oppure risparmio energetico optare per un portatile al posto di un fisso è sempre meglio per risparmiare un po' di energia io ho proprio una postazione fissa con cui faccio i lavori di editing più pesanti ma ho anche un portatile perché è comodo da portare in giro quando non sono in studio io però consiglio comunque un computer portatile anche in casa proprio perché i nuovi computer portatili grazie ai nuovi processori molto parsimoniosi consumano decisamente meno ma attenzione non è detto che dobbiamo per forza comprare un portatile perché se abbiamo bisogno di potenza di calcolo per lavori particolari ovviamente il fisso è indispensabile in ultimo se possibile è sempre meglio attivare il risparmio energetico tutti i computer fissi o portatili che siano hanno la possibilità di attivare il risparmio energetico ma attenzione perché ovviamente attivare il risparmio energetico vuole anche dire incidere sulle prestazioni del computer stesso quindi se abbiamo la possibilità di attivare il risparmio energetico perché ad esempio stiamo leggendo un documento o scrivendo un documento allora può essere sensato se invece abbiamo bisogno di potenza magari per aprire tante pagine internet o qualsiasi altra operazione che richieda potenza abbiamo bisogno di fare in questo caso meglio non attivarlo perché troveremo il computer solo lento ed inutilizzabile bene i miei consigli sono finiti qua spero che vi siano utili e che vi possano dare uno spunto per risparmiare qualcosa di più in bolletta che sicuramente in un periodo come questo fa molto piacere ehi il video non è finito qua a quei lati troverete l'ultimo video caricato e uno consigliato direttamente da youtube mentre qui al centro il tasto per l'iscrizione non dimenticatevi che in descrizione ci sono tutti i link ai miei social network il prossimo appuntamento mercoledì alle 14 tardi ci Grazie.